sono l'8 e 4 del 27 aprile 2024 mi trovo il mio 8 questa è la nuova faccia che ho comprato ieri allora quanta si faccia vedete io sono 1,63 vabbè i manici così però una più piccolo era meglio così vabbè comunque sia la faccia perfetta e taglia anche però guardate io faccio così guardate vedete siccome questa l'erba è dura la gramigna guardate guarda che si c'è qualcuna anche se faccia così si tende a spianare comunque sia questa è la faccia piena e allora prima così questa è l'erba grigna comunque sia se si va piano così non la taglia bene quindi bisogna dare un colpo netto così e va veloce io cambio un po' l'impugnazione invece di così metto la mano qui guardate la cambia ancora così e adesso faccio qui qua qui se c'è qualche ciuffetto così si si passa vedete qui c'è l'albero bisogna stare attenti qui vicino guardate una cosa stare via sì se 2 minuti atta allora facciamo anche questa protetta da qui guardate lo se pare sia così e anche così e anche così quindi allargo le gambe così faccio così è meglio per me e che ci sentiamo a farmi vicino a fare più di più adesso ci metto di più a 2 minuti attraverso la parte più di prezzo e adesso ci metto di più a 2 minuti attraverso la parte più di presso e iniziamo da qui guardate invece di mettere le gambe così così è meglio quindi per facciare c'è questa tecnica così guardate così rimane meglio per me vabbè adesso faccio un altro taglio ecco qui oggi quasi serena la giornata si presenta un'ottima giornata vedete sicuramente penso che la serena ancora qui devo ritagliare l'erba qua cresce continuamente